Infatti devo ancora aggiustare un attimo il terrazzo qua e poi... Ma c'è anche quell'altro di là che è bene, ma è molto bene. Alle 5 per andare in quella trasmissione. Anche all'Italia. Però le luci erano belle. Beh, è nata per volontà nostra, delle nostre equip, di voler provocare il pubblico, agli animi, anche perché si sentiva in giro, molte persone pensavano questo fatto. Cioè, molte persone hanno pensato basta con tutte queste facce da... E quindi noi abbiamo in qualche modo messo in pratica il loro pensiero. E volevamo attirare l'attenzione su di noi, sul Partito Socialista e su Milita Braccio. E quindi l'abbiamo fatto apposta, ecco.